19 pale eoliche, tre cantieri realizzati su terreni sottoposti a vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici, sono stati sottoposti a sequestro su disposizione dalla magistratura tarantina, dal corpo forestale dello Stato e dalla guardia di finanza. I sigilli questa mattina sono stati apposti ad impianti realizzati a Crispiano e Massafra nel Tarantino e a somme per oltre 350.000 euro pari ai contributi pubblici non dovuti, percepiti mediante truffa da alcune delle 12 persone indagate. Secondo l'accusa, nella località Valenza, Montemoro e Cacciagualani sono stati realizzati 19 aerogeneratori ed altri tre sono in fase di realizzazione, in assenza di autorizzazioni paesaggistiche, di parere dell'autorità di Bacino della Puglia e di valutazione di incidenza ambientale, rigorosamente prescritte in quanto opere realizzate su terreni sottoposti ad una serie di vincoli di natura paesaggistica ambientale e idrogeologica. Ai 12 indagati, tra amministratori di società, tecnici, progettisti, direttori dei lavori e proprietari dei terreni, vengono contestati reati ambientali, lottizzazione abusiva, truffa e falsità ideologica. Le paleoliche sono state inoltre realizzate in un'area di protezione speciale, chiamata area delle gravine, che è anche un importante habitat per particolari specie di uccelli selvatici. Oltre che habitat naturale della flora e della fauna selvatica, secondo le indagini per costruire in quelle zone le paleoliche, era necessario ottenere una preventiva valutazione di incidenza ambientale, in riferimento all'impatto degli impianti sulle abituali rotte migratorie degli uccelli. Rapaci, gru e cicogne sarebbero soggetti al rischio di morte per collisione, ma le paleoliche provocarebbero anche un effetto barriera per gli stormi migratori, costretti a seguire itinerari più lunghi durante i voli di migrazione.